Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona, dopo aver aperto il contenitore indossate il salvagente come vi stanno mostrando gli assistenti di volo, agacciate la cinghia sul davanti e tirate nelle estremità in modo che aderisca bene, gonfiate il salvagente solo immediatamente prima di abbandonare l'aereo tirando le maniglie rosse e se fosse necessario soffiate nei tubi di gomma. Se utilizzate un finestrino di emergenza, gonfiate il salvagente solo all'esterno della cabina. Il salvagente è in i pochi, sotto la sua sede, apre il contenitore e mettete il salvagente, come la cabina internazionata è ora dimostrando. Passate le equipes in fronte, mettete il salvagente all'adjuste del salvagente, invente il salvagente con il polio reddito solo prima di rimanere l'aereo tirando, se necessario, bluendo ai tubi di roba. Se usate un'emergenza di window, il salvagente dovrebbe essere inflazionato solo all'aereo tirando l'aereo tirando. For further information, the instructor safety X-Actual cars in the seat pocket in front of you. Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza riportate sul cartoncino, mostro nella tasca della poltrona di fronte a voi. Per ulteriori informazioni vi internazionata in fronte a voi. Per ulteriori informazioni vi internazionata in fronte a voi. Per ulteriori informazioni guardate Anda, ca enthusiastic la modica della piazza da solitare e giocare risp Salvagione cae di spiamo riguardo a voi è essere f��iliare. Per ulteriori informazioni vi internazionata in fronte a voi. E' una ora che un'essenzia intenziaare... Per sangria... Sì, siamo arrivati. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti